Lo spirito è più che giusto, soprattutto vedendo anche i giocatori che sono arrivati con grande voglia e stimoli, perciò questo è fondamentale. È chiaro che è una squadra che deve essere completata in alcuni settori, però credo che sia stato fatto da parte della società, e parlo del Presidente e Direttore Sportivo, un grande lavoro. Le basi ci sono, adesso piano piano assembleremo tutti quanti, compreso anche i ragazzi e poi dopo vedremo. Brini evidenzia il giusto mix di esperti e giovani costruito da Acre e Lombardi, soffermandosi soprattutto sugli ultimi arrivati, Caputo, Stendardo, Statella, Polito e Galasso. Ma intanto sono giocatori, alcuni li ho avuti io in passato, altri li ho visti anche in televisione, perché per fortuna noi giochiamo il sabato e la C gioca la domenica, perciò sono giocatori che conoscevo e che conosco. È un mix che avevamo detto prima di iniziare la stagione, ed è quello che volevamo. È chiaro che questi giovani devono dare qualcosa in più a livello di fantasia, di pensieratezza, sono cose positive che servono a una squadra di calcio.